buongiorno tesori letterine come se non ci fosse un domani ancora tantissime cose da leggere quindi oggi vi faccio vedere un po di disegnini questo rade che carino lì l'ho linetta io sono quindi nell'ordine apri apri fashion rocettina e alice e la letterina di chi ha fatto questo disegno e quella di anna che ha 9 anni prossimo anno devono in quarta elementare ho anche un canale youtube si chiama cristina albergo mi piace rollina e poi spettaci zucca i maschietti rocettina ben 40 lol si è costruita la casa delle lol da sola col cartone la plastica e già vi ho scritto un'altra volta che carino scusate dimenticavo di dirvi perché a me è una mia amica si chiama mega che si chiama megan anche se lei è un canale youtube la giochi preziosi non ci manda le lol da recensire tesore è perché per avere le lol da recensire bisogna avere un canale grande e poi molto probabilmente perché voi siete bambine quindi per avere un canale youtube bisogna avere più di 13 anni altrimenti il canale deve essere gestito da un genitore da qualcuno dietro quindi ci deve essere un adulto che vi aiuta e che fa le cose come vedete io il mio canale al mio nome io sono grande e soprattutto l'ara ogni tanto appare nei video ma non è in tutti per esempio oggi non c'è non è in tutti quanti i video in questo modo poi il canale comunque sia è abbastanza grosso e le views sono tante crescete continuate a impegnarvi fate una cosa bella potrebbe diventare potrebbe essere che un giorno succeda anche a voi però appunto ci servono dei numeri elevati quindi mi raccomando non demordete e impegnatevi se volete fare recensioni da grandi è comunque sia alla fine è un mestiere è un lavoro quindi se ci credete veramente e vi piace farlo se avete il permesso dei vostri genitori quando sarete più grandi sarà carino se lo fate insomma io lo auguro a tutti quanti perché devo dire il contatto con voi mi ha veramente cambiato la vita è stato veramente bellissimo io all'inizio facevo recensioni per le cose che ho nel mio negozio ma poi siete diventati così tanti insomma è un'esperienza incredibile meravigliosa è anche molto faticoso quindi non è una cosa che secondo me è adatte bambini che voi avete da studiare avete da avere avete degli impegni mentre per fare i video tutti i giorni ci vuole veramente un sacco di tempo un sacco di impegno nel frattempo mi sono aperta quest'altra letterina è riuscita questa bimba molto bellina c'è qua una specie di lampada probabilmente da montare così scusate una bajur che fa bene per barbie che carina e qui c'è una letterina vediamo chi ci ha fatto questi regalini ciao borbere la mi chiamo viviana ho otto anni all'inizio della scuola frequenterò la quarta vi seguo tutti i vostri canali ma anche su mega wow sì che bello a casa alice brillalice stella li voglio tanto bene ho lasciato acquistato un giochetto spero che vi piaccia la prima lol che abbia facciamo questo gioco mi serve una prima prenderò una delle vostre queste tutte le pennine che ci mandate voi nelle pacchettini la prima la che avete avuto il primo lol che avete avuto pan chi no il pet della vostra prima lol pollina la lilla della vostra prima lol tecnicamente quando quando si è una coppia quando si è una coppia aspettate ok ho capito perché deve essere gemelli fratelli fratelli c'entra f r a t e l l i no quindi dovrebbe essere f i dan zati ha fatto tutto quanto che carino questo cruciverbino si è stato proprio brava bello divertente fatelo pure voi giocateci a scuola con i vostri amici fatevi il cruciverba dateli ai vostri genitori bello mi piace un'altra letterina apriamo questa già aperta c'era dentro questo bracciolettino e la letterina ci racconta cosa ciao vero per lara mi chiamo noemi ho 9 anni farò la quinta elementare se dei miei youtuber preferiti io seguo voi lion e la sabri domande lara che classe farà la sta facendo la quinta elementare lele che classe farà lele sta facendo adesso il primo liceo scientifico internazionale emi che classe fa no scherzo scusate emi quanti anni ha è mia 40 scusa aspettate 45 ed è 74 5 6 7 8 9 45 a febbraio fa 46 anni lara vuoi essere mia amica ovviamente emiliano è mia 46 anni ma ne dimostra 20 di meno quindi tra un po io sembrerò sua nonna quindi devo cercare di mantenermi giovane lara vuoi essere mia amica assolutamente sì e servico ma bu eccolo qui lara io e barbara che carine che ci fate ma potremmo non aprire questa ma guardate questa letterina quanto è bella quanto ci sei stata a fare questa cosa meravigliosa è stupenda è bellissima quindi esistono le carte da lettera quelle decorate ma vedete con un po di fantasia pazienza e amore perché questo è solo per fare una cosa del genere c'è solo amore si riescono ad affare delle lettere stupende chi ho tosto tutto si viene dalla sicilia da franca da bianca villa provincia di catania questo è un bottoncino poi qui c'è fragile per le lol cos'è non usare la forbice ok non la uso e certo se non avrei potuto raffare tutto che carine sono le super chicche e quindi allora a che bello questo è il primo podio che vedo con le lol alice lollina primo posto e prevedo mentre il podio quell'altro ha messo noi me contro te e gbr quando mi vedo con questi mostri sagri già questi miti assoluti sotto grazie perché sono meravigliosi che mi emoziono quando vedo ste robe allora e l'amore lolina e panchino spero che vi piace il mio disegno certo lara che sport fa quest'anno ci siamo persi un pezzo nel senso che lara e lele hanno fatto sempre un miliardo di sport e io quest'anno non lo so che cosa ho però mi sono un po troppi impegni sono spini sono stanchissimo già faccio più ha bisogno di feri e quindi veramente non li ho ancora iscritti da nessuna parte cioè adesso mi vergogno un sacco ma lara probabilmente a gennaio inizia a palla a volo perché gli piacerebbe cambiare ha fatto nuoto ha fatto ginastica fatto un sacco di altre cose e lele molto probabilmente farà sala pesi palestra che ormai è grande quindi va a fare le sue cose fai addominali ste robe qui mi fai salutare la lolina sai che non so dov'è lolina è al centro commerciale ancora si sta distruggendo la mia carta di credito ma come fai a saperlo è perché ho l'app quindi sul telefono mi arrivano tutti i messaggini delle cose che sta comprando cifre folli e che sarà comprando e che ne so secondo me sta facendo il rogito il rogito si sta comprando tutto il centro commerciale intero eh panchino dovevi dare la carta di credito ma perché me l'hai storta me l'hai chiesta con la forza non posso dirle di no quando lei mi insiste allora panchino sai cosa devi fare cosa dimmi dammi la soluzione aiutami allora tu ti fai una carta prepagata ci metti dentro 10 euro le dai quella genio ma sì farò così solo che come faccio in che senso panchino adesso lei avrà speso tutto quindi non ho più neanche 10 euro per fare la carta prepagata e panchino di andare a lavorare così eh e poi allora avevo fatto un altro anche braccetto pure per l'ara non ti preoccupare le do questo l'ara così a posto mi fai da salutare la rollina ma hai visto rollina è andata ti devo dire rollina è andata al centro commerciale a spendere tutti i soldini di panchino bene quindi grazie per le letterine perché sono stupendissime io vi rinnovo ogni volta l'invito al prossimo evento il 5 di gennaio a zomarin quindi fatevi accompagnare venite a zomarin fatevi una bella giornata una passeggiata tanto è il giorno prima della befana siete ancora in vacanza quindi il giorno dopo comunque potete riposare è domenica insomma è tutto perfetto fate un bel giretto verso il mare vedete un bellissimo parco venite al nostro evento ci conosciamo ci incontriamo vedete tutti gli spettacoli ci divertiamo tantissimo quindi io veramente ragazzi non vedo l'ora di incontrarvi a zomarin che altro dirvi ho ancora un miliardo di letterine sono seppellita sepolta ho letterine ovunque pack surprise mi avete chiesto quelli del romix mi avete chiesto un sacco di altri pacchettini da altri eventi ma assolutamente sì li aprirò non vi preoccupate chi sta arrivando e ciao oh ragazzi c'è mia o ciao buongiorno è mio gattino cosa c'è e io passavo da queste parti sì sì che bello quella aranas hai visto che bella questa lampada è stupenda piace un sacco bene sì ma visto che stavo da queste parti ti volevo chiedere una cosa e se hai il collare la risposta è no che volevi chiedermi che ora sono dai volevi chiedermi del collare me lo togli no uffa sicura sicurissima ciao bambini iscrivetevi al canale un like una possibilità di togliermi il collare un like un secondo di libertà ragazzi sfasciate questo video di like perché questi non mi tolgono mai il collare però se ti metto le crocchette qui dentro puoi mangiare non ci avevo mai pensato ciao ragazzi al prossimo video